Mister Billonemonti, una partita quasi dominata, però un Barano che ha sprecato diverse occasioni e stava per finirla in pareggio quando la vittoria era il risultato più giusto. Come al solito, per fare un gol abbiamo dovuto creare 4-5 pali gol nel primo tempo, stavamo facendo una buona fluidità di manovra in alcune occasioni, alla fine facciamo il solito errore di disattenzione, l'avversario con una punizione cross spizzicata ha pareggiato. Poi ci siamo un po' innervositi e quindi secondo tempo eravamo un po' più contratti e a un certo punto quando loro sono rimasti in dieci è spostato Pasquale Savio che più è capace di tener palla, di girarsi, infatti si è procurato il rigore che stesso lui poi ha trasformato e siamo andati un po' meglio. Però nel momento in cui poi paradossalmente siamo andati in vantaggio e dovevamo essere furbi e intelligenti a girare palla velocemente, tenere più palla, molte volte andavamo di fronte al muro degli avversari e queste cose a me non piacciono tanto perché nella nostra squadra ci sono dei giovani bravi e degli elementi di esperienza di categorie superiori, quindi praticamente io da loro mi aspetto che siano quelli che danno l'input per ragionare, per essere furbi, per essere cinici, per essere concreti in tutte le situazioni, sia negative o positive, che si verificano in una gara. Mister Arcamone è stato protagonista in termini di occasioni che sono capitate sui sei piedi, aveva sbagliato diversi gol soprattutto nel primo tempo ma anche ad inizio secondo tempo poi è riuscito a trovare questo gol. Nelle tue gerarchie quando rientrerà in pagliazzo Arcamone si è conquistato il posto da titolare? Ma non lo so, Arcamone dobbiamo vedere come stiamo in quel momento, come sta in pagliazzo, le caratteristiche che chi ha a disposizione in base a un sistema di gioco. Arcamone sta già facendo tanto perché non è il suo ruolo, non è uno che ama giocare spalla alla porta, è adattato e cerca di farlo in un certo modo. In questo modo è normale che non abbia quella freddezza sotto porta che debba avere un attaccante che ha fatto esperienza diciamo sempre in area di rigore su queste situazioni. Mister, l'allenatore avversario ha lamentato una gestione dell'arbitro che per lui ha lasciato a desiderare. Tu sei d'accordo? Per te gli episodi sono stati valutati giustamente? Ma io per quanto riguarda il rigore era netto, secondo me, io stavo a 10 metri dalla situazione. Per quanto riguarda gli altri episodi, in questa categoria si notano spesso squadre che si lamentano, che vogliono la furberia, il fallo a favore, il fallo laterale, chi si butta a terra, chi perde tempo perché era in inferiorità numerica, quindi alla fine sono episodi sia da una parte che dall'altra che l'arbitro non è facile che possa gestirli tutti positivamente.